ciao buongiorno a tutti quest'oggi recensione di queste cuffie bluetooth con sistema nfc newbie sono le newbie nb9 intanto dico subito che insieme alla confezione nella scatola insieme a questa custodia rigida che le contiene vi è anche la fascia da braccio che serve appunto da portare lo smartphone con noi durante lo sport o il jogging la corsa ora vediamo subito l'apertura di queste cuffie come vi ho detto e come vedete vi è questa custodia rigida molto carina molto simpatica con moschettone dove all'interno troviamo cavetto per la ricarica micro usb e cavetto prolunga jack 3,5 millimetri per attaccare direttamente l'uscita del nostro smartphone alle cuffie le cuffie secondo me sono di una misura giusta cioè non sono di quelli con i padiglioni auricolari imbottiti che sono molto grossi quindi o riescono a coprire tutto l'orecchio oppure giustamente riescono a coprire la parte interessata dell'orecchio i driver le casse all'interno di queste new b nb 9 sono da 40 millimetri e all'interno vi è una batteria da 800 mili ampere che garantisce molte ore di musica di ascolto o molte ore di stand by tipo durata di conversazione siamo sulle 60 ore durata della musica siamo sulle 45 ore e invece 180 giorni addirittura di stand by questo purtroppo non posso testarlo sono la recensione l'avrei dovuta mettere quando magari sono uscite fuori di produzione come tecnologia al suo interno abbiamo la connessione 4.1 bluetooth i vari protocolli hsp hfp a 2 dp e avr cp in più vi è la riduzione del 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 rumore cvc 6.0 quindi come connessioni siamo veramente ad altimi livelli il microfono incorporato come potete vedere qua sotto fa sì che si possano usare anche come cuffie per rispondere a mani libere oltre a queste funzioni di cuffia che comunque come vediamo a tutti i comandi a portata di dito semplicissimo il pairing basta premere questo tastino che l'accensione tenere premuto cercare sul nostro smartphone nb9 e il pairing è fatto l'archetto è abbastanza rigido vi è questa possibilità di girare i padiglioni per poterli appunto ripiegare al meglio nella sua confezione la cosa interessante oltre all'audio che comunque funziona molto bene l'importante che sul nostro smartphone o nel lettore mp3 o tablet e qualunque cosa sia i file dentro siano puliti nel senso puliti che abbiano una leggera compressione che non siano più bassi di 320 kilobyte oppure che siano soprattutto meglio ancora file uov perché perché la pulizia del file musicale all'interno dello smartphone fa sì che queste cuffie rendano al meglio io l'ho provato e l'ho provato con dei file wav l'ho provato con dei file mp3 compressi a 320 kilobyte e si sentono bene al di sotto di quella compressione oltre a perdere logicamente il file musicale qualche taglio di frequenza perde anche molto la cuffia non riesce a riprodurli molto bene ma non perché vanno a scatti o cosa si perdono appunto delle frequenze dei tagli quindi non risulta più un audio ottimo qua abbiamo il chip dalla lettura nfc quindi col nostro smartphone basta fare il collegamento bluetooth una sola volta e quando poi noi andremo a passare il nostro smartphone così questo si collegherà automaticamente alla cuffia quindi risparmiando qualche passaggio la cosa interessante di queste cuffie nubi nb9 è che tramite app smartware che basta scansionarla dal libretto delle istruzioni tramite il qr code si può usare intanto vedete nb9 intanto si può usare come lettura come pedometro ora vi spiego velocemente cos'è allora attacco come vedete si apre una pagina dove dice di collegarlo alle cuffie noi lo colleghiamo alle cuffie vi è la possibilità di cambiare il linguaggio giapponese o inglese naturalmente inglese e noi adesso accenderò le cuffie perfetto ok allora una volta collegato allo smartphone premere qua cercare le cuffie e ora dovremo in qualche modo muovendo le cuffie esatto vedete che cambia ora di certo non è un pedometro perfetto però in base al movimento della corsa vedete che aumentano i passi la distanza e le calorie vi è anche un calendario per potersi andare a cercare le varie giornate in quante quali e quindi una specie di database delle nostre giornate quante calorie siamo riusciti a bruciare quindi oltre a fare sistema di cuffie questa nb9 riescono anche ad aiutarci a tenerci in forma quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto ciao a tutti